Picco di influenza, già colpiti 160.000 marchigiani Donna muore investita sui binari a Senigallia, traffico ferroviario in tilt A Pesolo, primo giorno del nuovo mercato delle erbe Turismo, Fano si gode il bilancio di un Natale da grandi numeri VL verso Napoli con sacchetti, gli ultras contestano la società Una buona serata telespettatori di Rossini TV Ben ritrovati con questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi, venerdì 12 gennaio, che apriamo occupandoci di salute Siamo infatti vicini al picco stagionale di influenza Che quest'anno ha particolarmente colpito la nostra regione Con una quantità di casi sopra la media nazionale Vediamo il servizio Siamo in prossimità del picco stagionale dell'influenza O meglio, questa è la previsione di massima secondo i medici Visto che il picco è una stima valutabile soltanto successivamente a un certificato monitoraggio di decrescita di casi Casi che invece finora sono soltanto saliti e che secondo le rilevazioni Hanno messo a letto ben 162.000 marchigiani Con la nostra regione che registra un'incidenza sopra la media nazionale Ovvero 20 casi ogni 1.000 assistiti contro i 17 del panorama nazionale I bambini fra 0 e 4 anni sono la fascia anagrafica che ne soffre di più 46 casi ogni 1.000 congestionando di lavoro pediatri e aumentando accessi ai pronti soccorso Picco o meno si dovrà convivere col virus influenzale almeno fino a febbraio La vaccinazione resta una prassi ancora valida E finora a sottoporsi a vaccino antinfluenzale sono stati 204.000 marchigiani Meno di 50.000 invece quelli che in quest'autunno-inverno hanno deciso di sottoporsi al vaccino anticovid E passiamo ora ad una notizia di cronaca Perché questa mattina a Senigallia una donna è morta investita da un treno sui binari La tragedia si è consumata intorno alle ore 11.45 per una dinamica sulla quale indaga la polizia ferroviaria Non sono state ancora fornite le generalità della deceduta La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è stata sospesa per circa due ore Con treni interrotti a Pesaro, Rimini e Ancona con collegamenti in autobus fra le tre città Ancora furti nelle scuole pesaresi di Villa San Martino Dopo i blitz notturni infatti dei giorni scorsi alla Manzoni e alla Don Milani I gnoti si sono introdotti nella notte alla scuola primaria Don Bosco Dove sono stati rilevati alcuni danni e lo scassinamento di un distributore automatico Ed ora andiamo nel centro storico di Pesaro Dove da oggi è stato trasferito lo storico mercato delle erbe in una nuova location Trasloco motivato dalla partenza delle cantiere di riqualificazione del complesso del San Domenico Venerdì 12 gennaio è iniziata questa mattina la nuova avventura per gli ambulanti del mercato delle erbe Nella nuova collocazione di via Gavardini Sempre in questo 12 gennaio infatti è previsto l'avvio delle cantiere di riqualificazione del complesso San Domenico Dove da un secolo e mezzo erano ospitate le bancarelle degli ambulanti E a estende che nei decenni si sono ridotte Oggi ci sono sei ambulanti che trovano nuova collocazione qui Oggi sono arrivati i primi legati all'ortofrutta Domani arriveranno anche quelli del pane e degli altri alimenti che vengono serviti da questo mercato Un punto di partenza per gli ambulanti ma anche un punto di arrivo dopo una lunga trattativa Per trovare una nuova sistemazione con Comune di Pesaro e associazioni di categoria Non è stato facile, è un anno che lavoriamo appunto per lo spostamento del mercato delle erbe Però era un'esigenza che i cittadini ci richiedevano Come sappiamo il mercato delle erbe è un mercato storico e non poteva essere assolutamente eliminato Quello che oggi noi possiamo dire è che l'obiettivo della continuità che abbiamo dato anche a questi esercenti Che comunque lavorano e fanno del sacrificio è già un obiettivo secondo me ottimo dell'amministrazione Avevamo dato tre soluzioni per poter continuare il mercato delle erbe È stata scelta questa qua di Palazzo Gradari È chiaro che è più ridotto però anche gli ambulanti stessi sono diminuiti nell'arco di questo anno Quindi nel frattempo già il fatto che noi possiamo dare la tradizione del mercato delle erbe Siamo rimasti all'interno del centro storico È già un obiettivo ottimo anche perché di spazi ne avevamo tanti Però erano fuori dal centro storico e quindi avremmo chiaramente spostato l'attenzione del mercato delle erbe in centro storico Quindi sappiamo che anche nelle grandi città c'è quello che è intenzione dell'amministrazione comunale La continuità del mercato delle erbe ma forse anche dare un rinnovo al mercato delle erbe E anche aggiungere altri prodotti all'interno di questo mercato Abbiamo cominciato in quarta, era notte ancora già la gente cominciava a arrivare Non ci lamentiamo, adesso vediamo andando avanti Speriamo che ci seguano tutti, per ora tutto bene Il primo impatto con questa nuova collocazione è anche per voi come state? No, è bello, è un posticino abbastanza raccolto, pulito Il problema forse sarà quanto piove Quello sarà da testare Saranno momenti critici È il punto di inizio di un tre anni Spero ottimi da parte imprenditoriale per i nostri ambulanti Anche se una critica alla faccio, non la faccio al comune Che si è prodigato all'assessore Frequellucci Che ha lavorato alacremente per cercare Essendo un'ex imprenditrice Ha capito qual era il senso del problema di uno spostamento E si è prodigata per trovare la soluzione migliore L'attacco, attacco Una critica alla faccio nei confronti della sovrintendenza Che bastava un minimo di sensibilità in più E avrebbe evitato di mettere questi quattro ombrelloni Avrebbe messo la tettoia Che tutti noi abbiamo chiesto In un cortile, sì storico come un cortile di via Gavardini Che quasi la metà dei pesaresi non conosce Che non sapeva minimamente dove fosse Per tre anni e poi la scopertura veniva tolta E si ritornava alla normalità Credo che la sensibilità di questo ente Sia ai minimi termini Non capisce quali sono le esigenze del mondo reale E così crea difficoltà agli imprenditori stessi Che dovranno sopportare la pioggia e il caldo quando ci sarà Ci sono delle rifiniture che devono essere finite All'interno del mercato delle erbe Quindi il 23 di gennaio ci sarà l'inaugurazione Con l'amministrazione comunale E anche con i cittadini Quindi benvengano Ora cos'è fondamentale? È fondamentale che i cittadini vengano al mercato delle erbe E far sì che queste attività possono andare avanti Dunque parti le cantiere del San Domenico Così come parti le cantiere vicino a Palazzo Olivieri Sede del Conservatorio Pronto ad una riqualificazione da 3.900.000 euro Che durerà almeno un anno Interventi che riguardano gran parte dell'edificio Dalle tetto ai piani interrati Dall'impiantistica al riscaldamento Si sta preparando il cantiere La prossima settimana è previsto l'arrivo di una maxigru Che comporterà un diveto di transito per un anno Su via Giordani per chi proviene da via Zacconi E sono state festività natalizie molto positive Per l'economia turistica affanese Che oggi ha fatto il punto Su una ricettività che ha registrato numeri confortanti Vediamo Oggi c'è un progetto di grande sostanza Che dura un mese Che tocca veramente tutta la città Un progetto che parte dalle persone Perché noi mettiamo insieme Il saper fare della città Siamo partiti, se lo ricordiamo, dal presepe di San Marco Che trainava tante persone Oggi abbiamo tante realtà Tante associazioni che collaborano Quindi devo ringraziare anche Proloco Fanunfortune Che ci ha gestito egregiamente tutto il periodo natalizio Tre sono i grandi attrattori Che comunichiamo in tutta Italia Ma anche altrove E lo sono il presepe di San Marco Perché ovviamente è unico E quest'anno lo sono stati come novità Il San Francesco Questo magico progetto di light design Che veramente ha stupito tutti E ovviamente il ritorno della palla del Perugino Abbiamo fatto da Natale all'Epifania 8.221 persone segnate Reali Certamente abbiamo superato le 10.000 In maniera abbondante E anche mille persone Nel periodo che è andato Quando sono iniziati Con le varie manifestazioni Nel Natale più Da Monbaroccio, eccetera Noi abbiamo avuto mille presenze Mi dicono che le presenze dei gruppi In città Che vogliono visitare il presepe di San Marco E poi vogliono di conseguenza Visitare la città romana Sono in crescita di un 30% Sono stati segnalati 40 pullman Nella città Mentre negli anni precedenti In un qualche modo I pullman Quindi le agenzie di viaggio Non mandavano i pullman Nella città di Fano Oggi questa cosa funziona Il San Francesco Ha dei dati ad esempio eccezionali 20 giorni di apertura Con 5 proiezioni per giorno Quindi un totale di 100 proiezioni Hanno portato circa 10.000 persone A vedere quel tipo di spettacolo Che è stato veramente molto ricercato L'abbiamo chiuso appunto Il giorno della Befana Ma l'idea è nel periodo estivo Di riportarlo nella città Perché è veramente unico Un luogo fortemente suggestivo Con una tecnologia Che racconta la sua storia E quindi questo Ne fa veramente uno spettacolo eccezionale Ecco quindi sono numeri importanti Insomma Alberghi consorziati Ci dà un dato sugli hotel E ci dice che Ad esempio Tutto il weekend Dell'8 di dicembre È stato un weekend addirittura In overbooking Per tutte le strutture Della città di Fano Così come anche dal 27 al 29 Anche perché abbiamo avuto qua Un torneo internazionale di volley Molto importante Con persone arrivate da tutta Italia È stata l'occasione anche per Visitare la nostra città E così anche come nel periodo Dell'ultimo dell'anno Gli hotel sono stati pieni Quindi un progetto in crescita Che riesce a raccontare La nostra bella città Le nostre bellezze Grazie anche alle aperture Che abbiamo strutturato Anche nel periodo invernale Quindi a destagionalizzare Che poi è la cosa che volevamo Nei nostri progetti E nel 2024 di Pesor Capitale Italiana della Cultura Si inserisce anche il ventesimo anniversario Della rassegna Teatro Oltre Vediamo il servizio Nel 2024 di Pesor Capitale della Cultura Si inserisce anche il ventesimo anniversario Della rassegna Teatro Oltre Di Amat 35 appuntamenti Che dal 17 gennaio a giugno Troveranno palcoscenico diffuso Nei teatri di Pesaro Fano Urbino Urbagna Iesi Mondavio San Costanzo San Lorenzo in Campo E Senigallia Ad aprire il sipario Il 26 gennaio Sarà Mariangela Gualtieri Che fa ritorno Al Teatro Rossini di Pesaro Per celebrare L'umana specie In tutta la sua splendida imperfezione Con il sermone Al mio celeste Pollaio Si prosegue il primo febbraio Ad Urbagna Con l'ultima eredità Monologo di Oscar De Suma Che racconta la storia Di un doppio viaggio Geografico ed emotivo E ancora 22 febbraio Teatro Tiberini Di San Lorenzo in Campo Con la revisione Dell'opera di Omero Dal titolo Odissea Tracce di resilienza urbana A cura di teatro del simposio Ma questi sono soltanto I primi appuntamenti Di 35 spettacoli Di teatro oltre Che si intersecherà Anche con un festival Dedicato al centenario Della nascita Di Giuseppe Testori Fra le più poliedriche Figure intellettuali Del novecento italiano Ben 5 appuntamenti Fra musica e parola Si chiama Echi Rossignani Nel nuovo appuntamento culturale Organizzato dal Circo Amici Della Lirica Di Pesaro Echi Rossignani Abbiamo pensato Di ripristinare La tradizione Del Circo Amici Della Lirica Con le conferenze Musicali E quindi Intitolato Echi Rossignani Tra musica e parola Gli incontri del Circo Amici Della Lirica Rossini O di V Ci saranno cinque conversazioni Che si svolgeranno Nel mese di gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Quindi sono cinque incontri Alcuni si terranno all'auditorio Palazzo Antaldi Con relatori di prim'ordine A livello nazionale E a indagare diversi ambiti Legati all'opera lirica Al teatro musicale in genere Insomma Da Plauto Ai legami con L'ispirazione Che ne trasse Rossini Fino alla storia Del teatro musicale Fino addirittura Alle contaminazioni Poi felliniane Nel progetto Chircos Del maestro Masini Del conservatorio Di Pesaro Diverse occasioni Di approfondimento Che saranno anche Diciamo Mensilmente Batteranno un po' Anche il tempo Di primi cinque mesi Della capitale italiana La cultura E permetteranno appunto Di partire dal patrimonio Come nel caso Del fondo Della collezione Albani Dell'Oliveriana Che costruisce anche Proprio scrigni Tesori musicali E anche molto antichi Per raccontare Quanto la musica È sempre stata protagonista Oltre che di casa Pesaro E come questo racconto Può essere non solo raccontato Ma anche eseguito Nella contemporaneità E come a volte avviene Ed ora cambiamo argomento E parliamo di sport Dopo la presentazione Del nuovo coach Della Carpegna Prosciutto Meo Sacchetti Che vi abbiamo mostrato Nelle telegiornali di ieri L'ex CT della Nazionale Si è tuffato In una full immersion Di tre giorni di allenamento Prima del debutto Domenico alle 18.30 Nella complessa Trasferta di Napoli Nelle calcio Valpolicella L'ora della verità Diamo verità Senza filtri Di martedì mattina Vi auguro Vi auguro un buon Proseguimento di serata E un buon weekend Nelle telegiornali di ieri